Notti magiche di calcio per chi ama lo sport nazionale per eccellenza. Azioni rapide, tecnica e agonismo concentrate in una manifestazione unica nel suo genere. Dopo il grandioso successo della passata edizione, ritorna per i tanti appassionati del territorio la 24 ore di calcetto a Piagge. Fischietto d'inizio venerdì 12 alle ore 21. Anche quest'anno la società sportiva Lubacaria Piagge e Avis Piagge organizzeranno il torneo di 24 ore di calcetto, Ottavo Memorial Pamela Sbrega, da venerdì 12 alle 16 a sabato 13 alle 22. Funzioneranno gli stand gastronomici per tutte le 24 ore. Al termine delle premiazioni ci sarà un momento musicale con una cover band. Anche quest'anno ricca di sorprese. Ma la 24 ore di calcetto di Piagge non è solo agonismo, ma è anche divertimento perché sabato sera per tutti ci sarà un gran finale. Sabato 13 alle 17.30 ci sarà una bella camminata organizzata da Avis che si svolgerà da Piagge a San Giorgio, il santuario di San Pasquale, con ritorno e arrivo a Piagge, per la durata di circa 8 km e mezzo. È aperta a tutti, dai ragazzini di 10 anni fino agli over 80. Noi vogliamo ringraziare l'organizzatrice di questa manifestazione che è la Flavia Ceccarelli di San Giorgio. Quindi vi aspettiamo tutti.